Allora, Sindaco, questa assemblea dei sindaci, quali sono i risultati? Beh, è stata una assemblea transitoria, era giusto ascoltare i sindacati perché è anche previsto dalla stessa legge regionale, sono interlocutori importanti, però vado via un po' deluso perché il dibattito poi lascia il tempo che trova, ma quello che emerge e che va chiesto con forza alla regione è che venga fatto un nuovo piano sanitario, perché altrimenti il rischio è quello di fare fuga in avanti senza avere un piano aggiornato a quelle che sono le esigenze sanitarie in questo momento e nel breve periodo. Poi purtroppo, come spesso accade, queste diventano anche occasioni per vetrine, per i teatrini della politica che non mi entusiaspano, mentre mi piace la sostanza, entrare nel merito delle questioni. Quindi in sintesi, quello che mi sento di dire, era un'occasione importante per ascoltare i portatori di interesse, in qualche modo una parte mai ascoltata all'interno della conferenza dei sindaci, cioè le organizzazioni sindacali. E penso che a questo punto si debba con forza richiedere il nuovo piano sanitario e andare in quella direzione.